Grazie a un'infinità di documenti trovati in archivio, in archivi nazionali e provinciali, ho potuto ricostruire la storia di Monicelli e anche di suo cognato, cioè la storia di Mondadori Arnoldo. Tutti i fatti più importanti di cronaca, fatti sociali, di cultura, fatti di cultura politici e militari che segnano l'Italia sono raccontati da Monicelli. Nel prossimo anno uscirà il volume 2 dove si chiude, dove si parla di Tommaso Monicelli che chiude il suo ciclo con la fine della guerra, con le imprese di fiume compiute con D'Annunzio e soprattutto con la lotta, la critica da parte di Monicelli all'apice della carriera, la critica al fascismo. Lui è un nazionalista che si trova dentro nel fascismo perché il nazionalismo confluisce nel fascismo e lui ci crede ma rimane subito deluso, viene mortificato nel suo slancio ideale e soprattutto dal fatto che lui non condivide, si ribella alla violenza dei ras e soprattutto alla morte di Matteotti, del deputato Matteotti, colpito dai fascisti e non accetta le leggi che violano le regole della Costituzione e quindi condanna il fascismo e il fascismo reagisce isolandolo e impedendo a lui, fino alla seconda guerra mondiale, impedendo a Monicelli di scrivere, non scriverà più nulla.